Bentornati a tutti carissimi guardiani, qui è Jivji. Allora, andiamo a fare, per la prima volta in questa season, non l'ho ancora portato, il Calla la Notte, chiaramente eroe, e quindi andiamo a vedere, guardate un po' le novità, più 25% danno ad arco, più 50% danni ad arco subiti, infliggi più danni con gli attacchi corpo a corpo, con le armi, ma subisci più danni dai nemici che ti attaccano da lontano, ci sono, vabbè, i campioni, sovraccarichi e barriera, e gli stiletti hanno scudi solari. Ok, avviamo. La provenienza indica un punto sulla costa, vicino al cosmodromo. Chiaopas, destino, ci stiamo proprio stendendo. È Rasputin, la mente bellica. Se ho capito bene, sta mandando una richiesta di soccorso. Sono così pochi gli stimatori di musica classica. Sarebbe un peccato perderlo. Ok, e iniziamo, vabbè, siamo all'inizio comunque. È già iniziato, ma... Buttiamoci nella mischia. Tu che botte. Eh, sono arrivato male, eh. C'erano i cecchini. Iniziamo bene. Zero uccisione. Tristissimo. Vendetta. Atroce vendetta, adesso. Ok, adesso... Adesso... Mo' basta. Mo' basta. Mo' fatevi fare una cosa. Ok. Ho cambiato sottoclasse, così abbiamo un po' più di resistenza. Di poco, però molte volte è quello che ti salva la vita. Nooo... Si stanno vendicando l'oro. Ma che botte da orbi. Ah, è l'altro che lo protegge. Ok. Ok. Caos totale. Ok. Mamma mia, ragazzi. Iniziamo male. Nooo... 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 mamma mia sti cecchini giù sono passati da sopra ci sono fatti più svegli o sono più basso io di di potere ok ce la stiamo passando male ok liberato la strada mi ha confuso per un nemico andiamo bello però trovarsi in difficoltà in qualcosa che conosci tantissimo come questo che c'era dal primo fancubo che danno che fanno non ci ho fatto caso neanche se ho le armi col fuoco no ma non credo mi stiamo morendo tutti di nuovo fammi rientrare prima che muore anche lui no tutto è vuoto e stasi ok aspettiamo era lui mi sono spaventato ho detto la sciva la sciva come cavolo si dice è tornata mamma mia che botte bello però ce ne va via così ci stava un trauma come prima come primo calaranotte grazie grazie Siamo ancora dentro i 15 minuti Meno male Dai non sta andando così male Si poteva fare Molto meglio però va bene dai Probabilmente siamo tutti bassi di potere Non ho guardato anche il numero Che hanno sulla testolina 44 e 51 Dai Qui sarà un casino E' pieno di stiletti Se hanno anche la barriera Del fuoco Io ho solo armi Che non sono adatte E' una flemma nel ricaricare Ok Quello è andato Ok Per fortuna sono morbidi Gli stiletti piccoli Meno uno E esplodevamo Mi è passato davanti Poco prima di che lanciassi Ok 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 Occhio con l'esplosivo Ok Ok La palletta Dove è andato Dove è andato Maledetti i cecchini No 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 Tutto stiletto cicciotto Sono senza super Sono senza super Ma che palle Sono i cecchini Il peggio di tutto Sono i cecchini Bello però Da lontano effettivamente Fanno più danno Siamo matti Guarda che roba Ok Giù Vedo anche come rompono La barriera In un attimo Quando la faccio Quando sono lontani Oh Gli unici con la barriera E insomma La tengo La super Non si sa mai Finiamo di nuovo Come prima Se avevo la super Era morto Lo stiletto Invece Ma duri Ok No 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 Più Spostiamoci Vai giù Mi servono tutti Via Lo sentivo dietro L'orecchia Oh Bella 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 Ecco i ragazzi Dopo sta fatica Ci salutiamo Ciao a tutti No 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 Grazie a tutti.